Un'escalation di violenza in via Rigopiano, in via Passo della Portella, situazione anche a livello sociale che sta diventando sempre più complicata. Consigliere Pettinari, voi oggi lanciate l'allarme, sono presenti anche dei residenti? Sì, lì ci può scappare il morto. Non avrei mai voluto raccontare che in via Rigopiano si sta verificando quello che si verificò nella stagione degli attentati a Fontanelle. Stanno minacce di morte nei confronti dei cittadini onesti, irregolari, violenze, atti intimidatori, anche minacce di stupro nei confronti di alcuni residenti. Infatti oggi sono a volto coperto i cittadini, non possiamo riprenderli con la telecamera. I cittadini che sono venuti con noi perché hanno paura non è più possibile. Anche i figli di questi cittadini onesti stanno vivendo dei traumi perché sono costretti ad assistere i genitori nel mentre vengono minacciati selvaggiamente. Io chiedo con forza lo sfratto immediato degli occupanti abusivi criminali pluripregiudicati. Non possiamo più aspettare. Ho parlato con i vertici dell'Ater qualche giorno fa, ho parlato con il prefetto di Pescara. Promesse che ho anche apprezzato, però le promesse devono seguire i fatti. Purtroppo lì la situazione è talmente tanto pesante che aspettiamo da un momento all'altro che precipiti il tutto. Una situazione complicata da un punto di vista politico-amministrativo. Lei cosa si sente di dire anche alla giunta Alessandrini? Ci sono delle responsabilità anche in questo caso del comune? Assolutamente sì. Comunque quello è un territorio del comune di Pescara. Al di fuori che quelle palazzine sono di proprietà dell'Ater e quindi di competenza regionale. Però comunque la sicurezza e la salubrità di quei luoghi sicuramente ricade a quella che è l'amministrazione di Pescara. Quindi comunque chiediamo all'amministrazione che venga sanata una situazione veramente pesante. Non sanati gli abusivi. Gli abusivi devono essere cacciati subito, immediatamente.